gavetta multifunzione da campo interamente in alluminio composta da piatto principale in alluminio con passanti per cinturino piatto piccolo con un passante l'alluminio poi abbiamo un pegame in alluminio di medie dimensioni un pegame in altre di più generose dimensioni fino ad arrivare all'interno troviamo anche un bollitore composto da un filtro interno coperchietto manicatura in polimero rivestita per non scottarsi e accluso nella confezione abbiamo un utensile a pinza che serve per maneggiare tutti i tipi di scodella pentolino pegame a disposizione utilizzarli sopra un eventuale fuoco leggero compatto maneggevole funzionale di facile utilizzo si mette a posto in un attimo l'ingombro è minimo e la chiusura è di sicurezza in quanto al doppio passante con un cinturino apposito per cui si può anche fissare all'esterno del vostro zaino senza troppe difficoltà il morzetto è in polimero nero a pressione viene chiuso ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua